Tra l'imbuto ed il grande evento dell'America's Cup, storia di ordinaria follia o semplicemente storia di una ZTL nata male. Ogni grande evento che si rispetti ha un suo imbuto o incognita, ma per come la vogliamo chiamare il risultato finale del pubblico disagio non cambia, anzi a Napoli si amplifica. E se consideriamo che ogni imbuto ha un collo dove tutto si blocca stando alle leggi della fisica, allora immaginate voi il blocco provocato dall'imbuto partenopeo della ZTL. Ovviamente, senza sterili polemiche, c'è da dire, anzi ribadire, che posto peggiore dove insediare il varco della maxi zona traffico limitato pro-America's Cup non poteva che essere quello che incrocia via De Predis a Piazza Municipio. È troppo semplice immaginare il perché, ma forse non tutti giungono a conclusioni logiche, perché quelle illogiche sono molto più semplici. Intanto però, chi ne paga le conseguenze sono sempre i soliti cittadini, che hanno l'unica colpa di esserci e possedere, chissà per quanto ancora, un'autovettura. Grazie. Grazie.